Quando è stato introdotto nell'aprile 2021, l'Air 2S è stato un immediato successo ed un grosso passo in avanti per la linea ProZoomer DJI. Un drone eccellente in termini di qualità video e foto, che ha tuttora moltissimi estimatori. Una nuova versione chiamata Air 3 è dovuta dopo quasi due anni e mezzo, poiché la tecnologia dei droni ProZoomer è avanzata moltissimo di recente. In questo video vedremo cosa sappiamo riguardo le caratteristiche del prossimo modello e cosa possiamo aspettarci per renderlo appetibile nell'attuale linea DJI. La data di uscita dovrebbe essere molto vicina, visto che i solidi leakers attendibili hanno già pubblicato moltissime foto e dettagli. Il nuovo modello è già anche stato registrato nel database della FCC in America, con due nuovi radiocomandi, l'RC2 e l'RCN2. L'Air 3 dovrà inserirsi tra il Mini 3 Pro e il Mavic 3, due eccellenti droni. Deve quindi offrire caratteristiche che lo rendano più interessante del Mini 3 Pro, per molti utenti, senza calpestare troppo il territorio del modello di punta. L'Air 2S ha un solo difetto di rilievo, la brevissima durata della batteria di 28 minuti. Questo è un handicap notevole, soprattutto per utenti interessati a Hyperlapse. DJI sta apparentemente affrontando la situazione, in quanto l'Air 3 sarà dotato di una batteria da 4241 mAh, 30% più potente di quella dell'Air 2S. Secondo le ultime indiscrezioni, il tempo di volo massimo annunciato sarà di 46 minuti, che è più o meno alla pari con il Mavic 3, un enorme miglioramento rispetto all'Air 2S. In termini di qualità video e foto, l'Air 2S surclassa il Mini 3 Pro, con l'eccellente sensore da un pollice, con risoluzione video di 5,4K e con 20 megapixel reali per le foto. Secondo le indiscrezioni, entrambi gli obiettivi del nuovo modello avranno un sensore da 1 diviso 1,3 pollici, con risoluzione video 4K e risoluzione foto reale di 12 megapixel, con in aggiunta la modalità foto 48 megapixel. In pratica, le specifiche video e foto dovrebbero essere praticamente identiche a quelle del Mini 3 Pro. Per molti potenziali acquirenti, questa sarebbe una grossa delusione. Forse è una mossa per spianare la strada a un Air 3S con un sensore da un pollice da commercializzare in seguito. Una caratteristica molto interessante del Mini 3 Pro è l'apertura estremamente ampia di f1,7, che si traduce in prestazioni sorprendenti in condizioni di scarsa illuminazione. E infatti, alcune foto trapelate dell'Air 3 mostrano la stessa apertura di f1,7. Rispetto al Mini 3 Pro, l'Air 3 sarà sicuramente molto più potente e avrà una migliore resistenza al vento. Quindi è quello da consigliare ad utenti che vivono in zone molto ventose. Ci sono sempre state alcune funzionalità riservate al Mavic 3 per preservare il suo statuto di modello di punta ed evitare di cannibalizzare le vendite all'interno della linea Prosumer di DJI. Le più importanti sono il sistema onnidirezionale di evitamento ostacoli, l'apertura variabile, il sensore più grande da 4 terzi di pollice per l'obiettivo principale, è l'utilissima modalità Waypoint. Secondo alcune voci, l'Air 3 potrebbe avere un sistema onnidirezionale per ostacoli. Da tutte le immagini che abbiamo visto, questo modello ha sensori nella parte anteriore, posteriore e inferiore. I sensori frontali sembrano essere in grado di coprire un'area ai lati e sopra, più o meno come il Mini 3 Pro, ma probabilmente non si tratterà di un vero e proprio sistema onnidirezionale. In questo caso il Mavic 3 rimarrà l'unico modello adatto al tracking a distanza ravvicinata. Non abbiamo sentito parlare della disponibilità di apertura variabile nel nuovo modello, ma sembra molto improbabile. La gran novità è un po' inaspettata. Il nuovo modello sarà dotato di due obiettivi e questa è una funzionalità importante che attirirà molti acquirenti. Ricordo che quando ho iniziato ad utilizzare droni, pensavo che il limite principale rispetto alle tradizionali fotocamere DSLR fosse la mancanza di obiettivi intercambiabili. Il sistema multiobiettivo è stato introdotto nella linea Prosumer DJI con la prima versione del Mavic 3, dotato di due obiettivi, e poi aggiornato con i tre obiettivi del Mavic 3 Pro. Secondo un leak con foto di Jasper Hellens, ci sarà un grandangolo da 24 mm con apertura f1.7 insieme ad un obiettivo da 70 mm con apertura f2.8, con un fattore di zoom triplo. Le lunghezze focali sono le stesse di due obiettivi più corti del Mavic 3 Pro, che sfoggia anche un obiettivo extralungo da 166 mm. L'Air 3 sarà venuta con una scelta tra due nuovi controller, l'RC2 e l'RCN2. Si tratta di versioni aggiornate dei due attualmente disponibili, il controller RC con schermo integrato e l'RCN1. L'unica differenza visibile nelle foto è la presenza di una coppia di antenne nel nuovo RC2. Non sappiamo ancora se l'Air 3 sarà compatibile con gli attuali controller, ma anche questo sembra abbastanza difficile, dato che non sarà possibile acquistare il drone da solo senza controller. DJI sta cercando di risolvere l'unico vero punto debole del Mini 3 Pro, la trasmissione del segnale. L'Air 3 potrà scegliere tra tre diverse frequenze, inclusa una nuova banda a 5,2 GHz con 200 mW, più potente delle due frequenze tradizionali, 2,4 a 100 e 5,8 a 25. La nuova banda avrà anche un traffico notevolmente inferiore rispetto a quelle esistenti e dovrebbe realmente ottimizzare la trasmissione del segnale, almeno in Europa. Si vocifera anche di un nuovo sistema di trasmissione OcuSync 4, che insieme alla terza banda spiega anche le necessità dei nuovi radiocomandi. Il Mini 3 Pro non ha piedini all'estremità delle ali, pertanto le antenne sono alloggiate all'interno dell'ala in posizione orizzontale. Questa è una delle cause della deludente trasmissione del segnale. Infatti, nel seguente Mini 3 i piedi sono stati aggiunti per alloggiare le antenne nella classica posizione verticale. Anche l'Air 3 avrà piedini all'estremità delle ali, per lo stesso motivo. Non sappiamo ancora se l'Air 3 offrirà video e foto verticali, come il Mini 3 e il 3 Pro. Vi ho visto le foto di un nuovo caricatore di batterie, che funziona in parallelo anziché in serie. In altre parole, le tre batterie verranno caricate contemporaneamente, invece che una dopo l'altra. Non sono sicuro che questo sia un metodo migliore, poiché preferisco avere la prima batteria pronta, non appena possibile. Grazie. Grazie. Non abbiamo dettagli su eventuali miglioramenti nelle modalità intelligenti, anche se ci sono voci riguardo la disponibilità della modalità Waypoint. Sarebbe un'ottima sorpresa, ma al momento non c'è nessuna certezza. Il nuovo Air 3 offrirà probabilmente le due eccellenti modalità colore a 10 bit dell'Air 2S, D-Log e HLG, insieme a Normal a 8 bit. L'Air 2S è già un eccellente drone. L'Air 3 risolve il problema principale, la durata della batteria, e aggiunge un sistema di trasmissione d'avanguardia. Ma la novità cruciale è il secondo obiettivo, che apre enormi possibilità per riprendere soggetti a cui non è possibile avvicinarsi, come la fauna selvatica o alcune scene urbane. Il nuovo obiettivo da 70 mm sarà inoltre estremamente utile per i ritratti e per raggiungere compressione alle scene con parallasse. A causa della mancanza di sensori omnidirezionali, il tracking a distanza ravvicinata con l'Air 3 sarebbe molto pericoloso. Molto meglio rimanere al di sopra di tutti gli ostacoli. In questo caso l'obiettivo da 70 mm sarà utilissimo per avvicinarsi al target. L'Air 3 sembra già un prodotto vincente e si inserisce perfettamente nel mezzo dell'attuale linea DJI. Anche se rimane da vedere se puoi eguagliare l'eccellente qualità video e fotografica del leggendario sensore da un pollice dell'Air 2S. Non conosciamo ancora i prezzi esatti nelle diverse valute, ma dalle indiscrezioni sembrano essere molto simili a quelle dell'Air 2S. L'Air 3 dovrebbe inserirsi esattamente tra il Mini 3 Pro e il Mavic 3, ma anche qualora la qualità video e foto dovrebbe essere la stessa del Mini 3 Pro, il nuovo Air 3 ha comunque l'enorme vantaggio del sistema a doppia lente. Più potenza e resistenza al vento, una trasmissione del segnale di altissimo livello e un'eccezionale durata della batteria. Questi sono già argomenti che attireranno molti potenziali acquirenti. E per di più potrebbero arrivare altre chicchie sotto forma della modalità Waypoint e magari anche un sistema migliorato per evitare gli ostacoli. E quindi cosa farete? Lo comprerete? Non dimenticate di premere il pulsante mi piace se avete trovato questo video interessante. Grazie!